le zecche devono essere rimosse unicamente meccanicamente utilizzando per esempio delle pinzette delle pinzette che voi farete ruotare stando attenti a staccare al momento della rotazione anche la testa che viene definita rostro della zecca che non deve essere mantenuta all'interno della cute. Sono assolutamente da evitare tutta una serie di sostanze che comunemente si utilizzano, sostanze oleose, alcoliche, perché queste causano un'ipersalivazione della zecca che favorisce la trasmissione di tutta una serie di malattie. Questo vale per gli animali ma vale anche per l'uomo.